Quali sono i migliori servizi cloud gratuiti? Scopriamolo! Esistono tantissimi servizi cloud sul mercato, servizi cloud che offrono pacchetti gratuiti e pacchetti naturalmente in abbonamento, quindi a pagamento. Ma quali sono i migliori gratuiti? E' quello che scopriremo in questo video. Prima di iniziare, come al solito, ti invito a iscriverti al canale e iscriverti anche agli altri social. Trovi comunque tutti i riferimenti nella descrizione del video. Bene, dunque, cosa dobbiamo sapere per scegliere un servizio cloud? Ripeto, parliamo di servizi cloud gratuiti, quindi non starò lì a ripeterlo. La prima cosa da fare, però, come dicevo, è stabilire come scegliere il servizio cloud migliore. Oggi ci sono tantissimi servizi, tantissime società che offrono dei servizi cloud, quindi la possibilità di salvare, appunto, tra le nuvole in cloud, per l'appunto, i propri dati. Si tratta di file come immagini, video, documenti e qualsiasi altro tipo di file mi venga in mente. Proprio per questo motivo, la prima caratteristica che devono soddisfare tutti i servizi cloud, nessuno escluso tra quelli che andiamo a scegliere, è naturalmente la sicurezza. Cioè, il tipo di criptografia che viene utilizzata per nascondere questi dati, sia ai malintenzionati, ma anche alle società stesse che detengono questi servizi. Il secondo fattore importante, che oggi è un aspetto molto più considerato rispetto a qualche anno fa, riguarda la privacy. Oltretutto, noi italiani siamo soggetti anche al GDPR europeo, quindi le aziende si devono conformare a questo sistema legato, appunto, alla privacy e alla riservatezza dei dati degli utenti. Ciascun operatore, ciascun fornitore di servizi, deve fornire in modo chiaro e preciso tutte le indicazioni su cosa fa o non fa dei dati che noi andiamo ad affidargli, in effetti, a tutti gli effetti. Andiamo, infatti, ad affidare dei dati che spesso possono essere anche sensibili. Naturalmente, non parlo dei video o delle foto che facciamo magari anche per condividere sui social, ma soprattutto di file delicati che possono, appunto, contenere dati riservati. Dunque, anche questo della privacy è un aspetto importantissimo. Naturalmente vengono poi fuori anche altri aspetti da tenere in considerazione. C'è lo spazio gratuito, quanti giga di... quindi quanto spazio di archiviazione mi consente di avere. Questo spazio di archiviazione, su cosa posso fare con questo spazio di archiviazione gratuito? quanto, che tipo di compatibilità con i file c'è, quanti giga o comunque quanti mega posso caricare contemporaneamente in questo spazio gratuito? E, per concludere, ed è secondo me un aspetto anche questo non trascurabile, è l'usabilità del servizio che ci viene offerto, anche se gratuito. Naturalmente ci sono diversi tipi di servizi e ognuno ha determinate caratteristiche. Diciamo che in generale, almeno parlando dei più noti, che sono forniti giornalmente da aziende quali Google, Microsoft, anche Apple, anche se in maniera un po' più limitata, ma ce ne sono anche altri, Dropbox, sicuramente, forse è tra le più note, ma ci sono anche Pcloud, la nuova nata da brevissimo tempo, Qubit, che è di un'azienda italiana, e ce ne sono naturalmente tantissime altre. Ciò che vi riporto in questo video, però, è la mia esperienza personale su ciascuno dei servizi che ho utilizzato, utilizzo normalmente tutti i giorni, anche per il mio lavoro. Tra i servizi più noti che offrono Cloud gratuito c'è sicuramente Box, da non confondere con Dropbox. Sono due servizi distinti, Dropbox e Box, anche se in realtà poi sono molto simili anche nell'interfaccia. La differenza però c'è. Box fornisce, offre, fino a 10 GB di spazio gratuito, a differenza di Dropbox, che invece ne fornisce solamente due. Box però ha una limitazione, consente, nell'account gratuito personale, un limite di caricamento dei file a 250 MB, quindi va benissimo per file di immagini, di foto e di video di piccole dimensioni. Naturalmente, se hai bisogno o necessità di caricare file di dimensioni maggiori, questo servizio gratuito probabilmente non è quello giusto per te. Offre sia sicurezza grazie a Box Shield che la conformità al GDPR. Naturalmente offre anche un servizio a pagamento, un abbonamento con 100 GB di dati nell'abbonamento personale. Poi ci sono anche servizi per le aziende. Un altro servizio nato da poco è Qubit. Qubit è praticamente un'azienda italiana che ha lanciato un nuovo sistema, un nuovo modo di fare cloud, di utilizzare i servizi in cloud. Sul sito trovate anche la recensione, nell'info box del video di questo video trovate sicuramente il riferimento, vi lascerò il riferimento se volete andare a leggere la recensione in dettaglio di Qubit. Qui vi posso dire che Qubit in generale offre un gigabyte di spazio gratuito. Diciamo che è ancora nella fase iniziale, quindi non è velocissimo lo scambio tra i dati per inserire i vostri file, però questo è solo per il servizio totalmente gratuito, perché Qubit, appunto, come dicevo, si basa su una filosofia un po' diversa rispetto agli abbonamenti mensili annuali di tutti i servizi cloud presenti sul mercato oggi. Infatti bisogna effettuare il pagamento una tantum, cioè solo una volta si acquista praticamente una cella chiamata appunto Qubit Cell, cioè la cella Qubit, che consente, diventa nostra a vita, quindi il pagamento è unico e poi si ha quello spazio a vita, è una cella che consente di avere fino a 8 terabyte di spazio in cloud gratuito. C'è fornita questa cella su cui vengono registrati i nostri dati frammentati insieme ai dati di altre persone che utilizzano anche loro Qubit. Infatti la criptografia che utilizza Qubit, anche questa è una cosa un po' particolare, un po' unica di questa società, ripeto, italiana, è che la criptografia di tipo militare viene garantita anche da un mescolamento di dati frammentati tra le varie celle in possesso delle varie persone che le hanno acquistate. Ovviamente questi dati frammentati hanno delle ridondanze, cioè vengono effettuate delle copie di backup su più celle, in modo che i dati siano sempre accessibili, quindi anche se una cella dovesse rompersi in poche parole, se tu acquisti una cella che si rompe, perché le cose sono cose che possono capitare, naturalmente non perderai alcun tuo dato perché ci sono appunto più e più copie frammentate, ripeto, e criptografate, quindi difficilmente accessibili. Ripeto, si tratta non di un abbonamento ma di un acquisto singolo che rimane poi a vita, quindi se acquisti ci sono vari formati, da 4, 8, insomma 500 terabyte, 512 gigabyte, quello spazio rimane tuo a vita, non dovrai pagare più nulla né sborsare un solo centesimo. Chiaramente questo significa che c'è un sborso iniziale maggiore rispetto agli abbonamenti mensili e annuali degli altri servizi, però verrà ammortizzato rapidamente perché poi non dovrai pagare più nulla per il tuo cloud. Ripeto, si tratta di un servizio ancora agli albori, agli inizi, forse non è ancora noto come gli altri più grandi, più noti, però si sta facendo conoscere. Il terzo servizio di cui ti parlo è Dropbox. Dropbox credo sia il più noto tra i servizi cloud, non appartenente ovviamente ai grandi di cui parlerò tra poco. Dropbox è praticamente fantastico, è uno dei migliori probabilmente, ma nella versione gratuita ha delle limitazioni notevoli, soprattutto per quanto riguarda lo spazio di archiviazione. Infatti ci sono solo 2 gigabyte di spazio di archiviazione che è possibile utilizzare in modo gratuito. Anche in questo caso naturalmente ci sono degli abbonamenti con servizi a pagamento sia mensili che annuali. Però Dropbox consente di espandere il proprio spazio cloud grazie agli inviti. Se si invitano amici che passano tramite un link appunto di riferimento, se che passano riesce a far passare a Dropbox, a far utilizzare Dropbox, per ogni amico passato si hanno 500 megabyte aggiuntivi sul proprio spazio di archiviazione fino ad arrivare ad un massimo di 16 gigabyte. Certo, in questo caso ovviamente se si riesce però a portare un po' di amici e arrivare anche a 10 giga sicuramente è un vantaggio. Perché? A parte tutte le caratteristiche di privacy, di sicurezza, Dropbox fornisce tutta una serie di funzionalità che consentono ad esempio di condividere i link direttamente da Dropbox sui social, agli amici, si possono scaricare, questo vale anche per Box. Quindi Dropbox e Box consentono di scaricare sul PC delle cartelle dedicate in cui si può andare a salvare direttamente dal PC in quella cartella e allora si troverà, facendo un esempio, sullo smartphone. Lo stesso vale con il percorso inverso. Cioè, se dallo smartphone vado a salvare un file, quindi per esempio un'immagine o un video, su Dropbox, questo me lo ritroverò automaticamente anche sul PC dopo ovviamente aver atteso i tempi di caricamento. Tempi di caricamento che sono molto rapidi, ma non rapidissimi, non sono i più veloci in assoluto. E c'è in questo elenco che ti sto facendo, che tra poco continuerò, un servizio che invece offre una velocità ancora più elevata di caricamento rispetto a Dropbox. Un altro servizio cloud gratuito è offerto da Drive. Google Drive, c'è appunto un servizio di Google, probabilmente è il più noto perché è un'applicazione presente su tutti gli smartphone Android, perché fa parte degli account di Google. Quando ti apri un account con Google, che sia Gmail, che sia qualsiasi altro servizio, ottieni in automatico anche Google Drive. Google Drive consente il caricamento di qualunque tipo di file, PDF, Word, immagini, video, di qualunque dimensione, ordine, misura, qualunque cosa puoi caricare, fogli Excel, veramente puoi caricare di tutto su Google Drive. Non è velocissimo, anche Google Drive consente di avere una cartella sul PC e naturalmente accesso tramite browser, sia da smartphone che da PC, oltre che dall'app presente sullo smartphone. Il limite di Google Drive è la quantità di spazi di archiviazione a disposizione. Purtroppo Google dal primo giugno dell'anno scorso ha limitato lo spazio di archiviazione a 15 GB nel complesso per Google Drive, Gmail e Google Foto. Quindi se hai diverse Gmail e foto caricate di Google Foto, Google Drive naturalmente va a ridurre lo spazio di archiviazione a disposizione. Diciamo bene o male, facendo una media sui tre servizi, si hanno in totale 5 GB per ciascuno. Naturalmente è giusto un'indicazione di massimo. Il vantaggio di Drive è che comunque ce l'hai già a disposizione, quindi si può utilizzare sicuramente come servizio di backup aggiuntivo. Ti invito a continuare a vedere il video perché alla fine farò un po' di confronti tra i vari servizi oltre a dirti, e di come utilizzarli, oltre a dirti qual è il migliore. Dopo Google Drive, un altro servizio fornito da un'altra azienda mi pare nota è iCloud di Apple. iCloud fornisce 5 GB di spazio di archiviazione, anche questo accessibile da smartphone e da browser. Questo spazio di archiviazione è gratuito sempre, ricordiamolo che stiamo parlando di servizi gratuiti. 5 GB sono disponibili solo per chi possiede smartphone e tablet della cammela morsicata, quindi iPad e iPhone. Però, e quindi ovviamente, si può utilizzare anche come servizio di backup di tutto il dispositivo. Chi ha iOS sa bene di cosa sto parlando. Però, forse non tutti sanno che iCloud può essere utilizzato anche da altri, anche da chi non ha smartphone o tablet Apple. In questo caso, però, c'è un limite di utilizzo ad 1 GB di spazio di archiviazione. Ripeto, ovviamente, sempre, gratis. Anche Apple, come Google e del resto, forniscono, e anche Microsoft, a cui arriverò da bere, forniscono servizi in abbonamento mensile e annuale, con diverse quantità di spazio di archiviazione che arrivano fino a 2 TB. Ultra abbondante. OneDrive. OneDrive, appunto, è il servizio di archiviazione cloud, è il servizio cloud di Microsoft. Anche in questo caso, chi possiede un PC Windows ha preinstallato sulla propria macchina il servizio cloud di Microsoft che offre gratuitamente 5 GB di spazio di archiviazione. Anche in questo caso, è un servizio, chiaramente, crittografato, sicuro, GTPR, tutto quello che volete. Fornisce anche diverse utility che consentono di modificare, ad esempio, le immagini. È chiaramente perfettamente integrato con tutti i servizi Microsoft e quindi tutta la suite di Office. E fornisce anche la trasmissione tramite dispositivi, sulla TV, tramite, ad esempio, il Chromecast. Trovate la recensione sul canale anche del Chromecast. Dicevo, consente quindi anche questa trasmissione tramite Chromecast e anche questo è un servizio che io lo utilizzerei e in genere lo utilizzo più come fonte di altro backup che come servizio principale cloud perché, oltre ad avere solo 5 GB, che possono sembrare tanti, ma non lo sono poi così tanto se avete tanti dati sui vostri dispositivi mobili. Anche il caricamento non è velocissimo, è abbastanza lento rispetto agli altri che ho elencato fino ad ora. L'ultimo servizio di cui ti parlo adesso è P-Cloud. Anche P-Cloud fornisce 10 GB di spazio gratuito e come altri servizi fornisce alcune funzioni aggiuntive. Oltre ad avere anche P-Cloud una criptazione di tipo militare, è una società svizzera, quindi si trova in Europa, anche se i server si trovano negli Stati Uniti, dicevo, P-Cloud fornisce 10 GB di spazio di libri. In realtà, appena ti iscrivi, te ne fornisce solo 3. Però, poi, seguendo una serie di azioni che comunque avresti eseguito, tipo scaricare l'app su tutto smartphone, perché poi alla fine lo utilizziamo i servizi cloud anche proprio per gli smartphone, quindi per salvare i dati dallo smartphone in massima parte. Quindi installare l'app sullo smartphone ti consente di avere un altro giga di spazio di archiviazione, insomma, tutta una serie di processi che in realtà avresti comunque compiuto per attivare il servizio cloud. In sé si arriva fino a 7 GB. Poi, invitando gli amici, si possono aggiungere 1 GB di spazio di archiviazione per ogni amico invitato e appunto si hanno 10 GB di spazio di archiviazione gratis. Naturalmente, anche con P-Cloud ci sono poi servizi in abbonamento mensile e annuale che arrivano fino a 2 TB di spazio di archiviazione. Oltre a fornire un lettore video e foto all'interno del stesso servizio, della stessa app cloud, per il cloud, P-Cloud perché mi è piaciuta e perché la utilizzo principalmente dopo aver utilizzato per anni Dropbox ho deciso di utilizzare principalmente P-Cloud. Perché P-Cloud fornisce, oltre alla grandissima sicurezza, anche una velocità di caricamento che vi assicuro è fantastica. Anche il video che sto registrando in questo momento per parlarti dei servizi cloud lo vado a caricare tramite P-Cloud perché è davvero velocissimo. È quasi, non dico istantaneo perché poi per quanto riguarda i video, naturalmente si tratta di video in genere di grandi dimensioni, dalla lunga durata, quindi grandi dimensioni, visto che sono registrati, li registro tutti a 60 fotogrammi per secondo. Ti assicuro che è veramente molto molto veloce. è il servizio cloud che è utilizzato in assoluto più veloce. Questo per me è sicuramente un fattore fondamentale, messo, ripeto, che offre criptografia di tipo militare, insomma, alquanto sicuro. Ma c'è un altro fattore che me lo fa scegliere come il migliore in assoluto ed è il fatto che non ci sono limiti nel caricamento, nella dimensione dei file da caricare. Quindi anche il video che magari vado a caricare adesso, che può superare anche i 2 GB tranquillamente, lo carica senza alcun problema. Ed è quindi il fatto che offre 10 GB di spazio archiviazione gratuito, che ha criptografia militare, che offre la sicurezza e la riservatezza della privacy, che offre il caricamento dei video, che offre il caricamento dei file di qualunque dimensione, è sicuramente il servizio cloud che io preferisco e che ritengo il migliore tra quelli che ti ho indicato in questo video. Prima di concludere, voglio però dirti un'altra cosa, e cioè di non preferire, ovviamente, utilizzare un servizio cloud come Pcloud come principale, ma non di utilizzarlo esclusivamente. Cioè, dato che ci sono tanti servizi cloud che offrono spazio di archiviazione gratuita, perché non utilizzarne più di uno e quindi avere tanti GB a disposizione? Sì, può sembrare di avere troppa confusione, troppi servizi, io ne utilizzo davvero tanti, questi non sono i soli, anche per il mio lavoro. Sì, è una cosa che trovo molto molto comoda, ma non solo, anche per motivi personali. Dicevo, ne utilizzo diversi, non solo perché ho più spazio di archiviazione, ma perché questo mi consente di salvare diversi file, diversi backup degli stessi file. Questa è una cosa importantissima da prendere in considerazione. Quando salvi un file, chiaramente stiamo parlando non della foto scema che non te ne frega niente, puoi anche cancellare, ma di dati importanti che vuoi conservare per il resto della tua vita. Quei dati, quindi che si tratti di immagini, di video o di documenti, è bene sempre salvarli, farne più copie e salvarli su più servizi in cloud, perché in cloud, perché è così raggiungibile ovunque ti trovi sulla faccia della terra. Da qualunque pc, da qualunque smartphone, hai accesso a questi file e se malauguratamente dovessi perdere uno smartphone, rompere un pc o un servizio non funzionale o per qualunque altra cosa esistente che possa accadere, hai sempre una copia su un altro servizio cloud. Spero che il video ti sia piaciuto, ti invito a iscriverti al canale, a mettere anche e cliccare sulla campanellina così da non perderti gli altri video che verranno caricati sui o Pantarei News. E mi raccomando, iscriviti anche agli altri social, ti ricordo che nella descrizione del video, nell'infobox, trovi tutti i riferimenti, compreso il canale Telegram, delle offerte. Ciao da Gianni Fiore per Pantarei News.com Buona Pasqua.